guardate qui tutte le colombe ad aspettare il cibo che gli sto dando per il pranzo pare che siamo noi siamo dei poveracci alla caritas grazie per averci deliziato del tuo cibo però ancora aspettiamo il cibo eccolo qua vedete ho mischiato il mantine per le colombe con il gran turco che è apprezzato dalle colombe ora vediamo qua eccolo qua vedete un attimo solo aspettate un attimo aspettiamo un attimo se cade vede cade non so perché deve cadere ecco così vede vedete aspettate un attimo se non lo metto così un attimo solo lo sapevo io e santa della madrina va e aspetta un attimo aspetta che faccio invece faccio così guardate ecco qua ecco qua tutto qua avete visto avete visto eccolo qua avete visto ho sbagliato per lo sapete perché che secondo me è meglio meglio era meglio era meglio era meglio era meglio invece secondo me era meglio ora vi spiego cosa era meglio distribuirlo qua e là aspetta io la metto io la metto perché ha il cane ha gli arrotti i coglioni è meglio distribuirlo lo sai vede cose aspettate un attimo che ve lo metto qua pure aspettate un attimo così non vi accavallate aspettate un attimo aspettate un attimo che aspettate un attimo 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 che ve lo metto aspettate un attimo che ve lo metto così ve lo metto anche verso verso un altro lato così possono non si accavallano Me ne metto un altro poco. Me ne metto sparsi. Me ne metto sparsi. Me ne metto sparsi. Me ne metto sparsi. Ve lo sto buttando a destra e a sinistra così posso mangiare. Me ne metto sparsi a destra e a sinistra. Me ne metto sparsi a destra e a sinistra così posso mangiare. Ve lo sto buttando a un martello pneumatico. Un martello pneumatico. Visto quelli là fuori mi stanno guardando per chi stanno da mangiare le colombe. Vedete qua lo sparso qua vedete qua. Qua così non si accavallano. Ne avete capito? Così non si accavallano. Allora il video lo distribuisco in 10 minuti. E quello è qua vedete? Così non si accavallano. Eccola qua. Eh come vi accavallate là e non vedete che c'è qua pure il cibo. Questa è la cosa che io la metto a tipo trincea. A tipo trincea. L'uniche furbe siamo noi. Loro si accavalcano. Si no si accavallano. Si no si accavallano. Invece noi siamo qua a mangiare. Tipo mangiamo come martelli pneumatici. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant no 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 faccio niente faccio niente perché è scappato quello è qua se hanno fame ancora gliene do un altro poco secondo me non mangiare alcuni siamo ingorde noi mangiamo tre chili di mangiamo al giorno un chilo ma poi sono arrivate ora voglio che le butto un altro poco aspettate un attimo scusate che lo ingombro aspettate un attimo così glielo apro me ne apro c'è una a destra che la pavola vuole mangiare aspettate un attimo così me ne metto ragazzi io glielo metto qua vedete che ce l'aveva da una che è affamata che se l'aveva messa qua a destra forse cercava mangiare a 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 Mi devo fare riconoscerlo Mi devo fare riconoscerlo Grrrr 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 Vieni Fini, sbagliarlo tutto finito finito due sacchi tre sacchi erano due sacchi e mezzo un sacco di di come si chiamano di di gran turco e un sacco e mezzo di di un sacco e mezzo di di mangime per loro la fila si pulisce aspetta non voglio farvi scattare ma faccio piano il gesto ecco qua l'ho messo proprio vicino a me scusate un attimo che mi compro ecco qua vedete che stanno mangiando stanno vicino ecco meglio stanno vicino al mio piede vedete stanno beccando pure stanno beccando pure la scarpa sentito un colpo di becco mangiate mangiate vicino a me già hanno finito tutto come forma educativa voi dovete e vi dovreste appoggiare politicamente perché il cibo che voi potete vendere potete vederlo ai bambini alle bambini di tutte le scuole i minorenni che vanno dall'asilo io potrei dire anche dagli uno a un anno quando cominciano a camminare più o meno dagli uno fino ai 17 18 anni come forma educativa come forma educativa come forma educativa affinché imparano a rispettare ed amare gli animali vicino a me vicino a me sono vicino a me vicino a me non ho niente non ho niente non ho niente vedete ce ne vogliono tre sacchi almeno la prossima volta riesca giustamente non mangiare un ente cavota sono in mezzo a me guardate 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 in mezzo alle cosce dove sono gli altri eccole qua vedete vicino a me no 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 scappate non scappate scappate a fare non so se riuscite a vederle purtroppo si oscuriscono no scusate si oscurano scusate se ne sono andate perché noi ci siamo saziati noi ce ne andiamo guardate va bene ok ah boh basta allora 11 e 59 5 febbraio 2024